Nella memoria dei santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù, vorrei invitare i giovani a compiere un gesto di tenerezza verso gli anziani, soprattutto i più soli, nelle case e nelle residenze, quelli che da tante messe non vedono i loro cari. Cari giovani, ciascuno di questi anziani è vostro nonno. Non lasciateli soli, usate la fantasia dell'amore, fare telefonate, videochiamate, inviate messaggi, ascoltateli e, dove possibile, nel rispetto delle norme sanitarie, andate anche a trovarli. Inviate loro un abbraccio. Loro sono le vostre radici. Un albero staccato dalle radici non cresce, non dà fiori e frutti. Per questo è importante l'unione, il collegamento con le vostre radici. «Quello che l'albero ha di fiorito viene di quello che ha di sotterrato», dice un poeta della mia patria. Per questo vi invito a fare un applauso grande ai nostri nonni, tutti! Grazie! Grazie!